Come è cambiato il clima sulle nostre montagne, soprattutto come l'uomo ha convissuto con le trasformazioni che hanno attraversato i millenni? A queste domande risponde Alex Cittadella del suo nuovo libro Il cielo delle Alpi, che esce oggi per i tipi di La Terza, in collaborazione con il club alpino italiano. Il saggio ripercorre e ricostruisce in 12 tappe il rapporto che l'uomo ha instaurato con il clima delle Alpi nel corso dei secoli, attraverso le vicende di alcuni tra i personaggi più noti del passato e del presente.